buon pomeriggio ragazze ragazzi come state come va tutto bene caldo davvero caldo caldo da morire allora benvenuti in un nuovo video come avete letto dal titolo video all shane sono veramente contenta perché questo pacco è arrivato velocemente cioè sono stati non più di otto giorni lavorativi naturalmente quindi come a grande sorpresa e volevo dirvi anche che aspetto altri due pacchi quindi in realtà avrei voluto fare un unboxing tutto insieme però siccome ho dei vestiti delle maglie che voglio utilizzare preferisco subito lavarli e quindi poterli indossare per cui vi faccio questo primo video e poi quando arriveranno gli altri magari faremo uno spacchettamento insieme prima di cominciare voglio ringraziare l'azienda essenzia per avermi concesso per la terza volta la collaborazione dei profumi e quindi vi ricordo che è un brand spagnolo io ho già girato altri video magari vi lascio i link giù in infobox è un brand spagnolo che produce profumi equivalenti a quelli famosi ai brand diciamo più grossi e più conosciuti questa volta ho scelto dei profumi due profumi maschili e uno per me femminile nel formato sempre da 30 ml naturalmente mi sono arrivati da un po io li ho già utilizzati perché a me piace comunque utilizzarli e vedere soprattutto se sono persistenti allora questa volta ho preso il 673 che sarebbe aspettate ve lo dico subito perché ce l'ho scritti qua allora il 673 è il costo per uomo poi ho preso per me il 740 che sarebbe alien e il 119 che è un go boss nuit quindi due per i maschietti di casa e loro si trovano molto bene e alien per me c'è questo non può mai mancare in tutte le salse di ogni brand non manca mai alien e loro inviano sono stati così gentili da appunto inviarmi tre profumi e quattro campioncini dei campioncini ho scelto pago rabanne che le di milion po son girl il tiffany è sempre di di rimuvi ora magari appunto vi lascio i codici diciamo i numeri dei profumi in info box vi ricordo che c'è una vasta lista di profumi e che ci sono le spese di spedizione che sono circa 10 euro e formati sono da 30 da 100 ml quindi andate a guardare il sito di essenza detto ciò comincerei con il video di shane con i prodotti allora il pacco è arrivato non puzzava assolutamente anzi all'interno faceva odore di igienizzante per cui secondo me non secondo me sicuramente tutti questi prodotti vengono igienizzati e sanificati cosa molto molto positiva ed è arrivata veramente in tempi record allora ho preso dei prodotti cosmetici qualche sciocchezza perché alla fine lo sappiamo su shane comunque ci passiamo qualche sfizio e qualche magliettina allora comincerei dalla prima cosa che ho acquistato che è questa che praticamente è la molletta c'è la luce per fare i self infatti vedete da qui si illumina ci sono tre diciamo gradazioni di luce e quindi la attaccate al cellulare in questo modo e potete farvi selfie cosa molto 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 interessante come interessante è da questo può mancare il separatore del tuorlo dall'albume no fondamentale importantissimo quindi anche questo preso su shane per quanto riguarda l'abbigliamento allora ho messo nelle grigie le maglie dunque vi mostro per prima questa che è praticamente abbastanza fresca un tessuto in cotone molto fresco molto morbido come si sta portando adesso questo diciamo tessuto sangallo chiamato ed è appunto gialla in questo modo quindi abbastanza lenta abbastanza morbida con la chiusura dietro a goccia cosa che mi piace particolarmente c'è una cosa che veramente mi fa impazzire nelle nelle maglie ecco quindi questa qui è il colore giallo proprio come lo vedete in in video giallo giallo e questo ovviamente molto molto carina poi ho scelto quest'altra blusa adesso aspettate che ve la bottono così potete capire come lo scollo quest'altra blusa lilla ecco qui anche questa abbastanza morbida con la manichina corta e tutta questa rush qui ecco qui qua c'è il bottoncino dorato ed è quel tessuto tipo seta però devo dire che abbastanza fresco e morbido quindi questa scusate un attimo quindi questa per quanto riguarda la blusa lilla poi ho scelto questa magliettina qui rossa che in realtà non è proprio rosso rosso vivo ma è un lavanda di un lavanda un un porpora un bordeaux molto carina anche questa così e c'è la possibilità di poterla mettere o in questo modo appunto con le spalle scivolate queste qua sono tutte taglie uniche quindi bene o male io con le bluse con le maglie riesco a regolarmi è un'altra blusa che ho preso però questa è risultato un po cortina quindi la regalerò è questa qui molto carina molto fresca molto morbida però ecco non mi aspettavo fosse così corta perché ha questo riccio sotto il seno e poi ci torna veramente corta a meno che dovrei metterla appunto con con un jeans a vita molto alta con un pantalone a vita molto alta però non lo so ecco devo vedere se non dovessi trovare un buon abbinamento la regalo a mia nipota abbastanza fresca col fiocchetto quindi molto molto carina poi ho preso un porta diciamo gioie che si può mettere su un tavolo anche questo qui in plastica naturalmente io lo metto sul comodino e la sera sapete che magari ci togliamo gli anellini gli orecchini braccialetti li posso poggiare qua e questo invece potete mettere gli anelli i braccialetti le collanine in realtà è un porta gioie da tavolo molto molto carino pagati cioè tutte queste cose qua per niente sono pagate una sciocchezza se mi ricordo magari vi lascio mentre che va il video il prezzo di ciascun articolo per quanto riguarda invece il makeup ho voluto prendere un fondotinta quindi questa è la linea she glam ne ho sentito parlare molto bene non ho mai preso nulla anzi forse in passato ma ancora non si chiamava così ho preso un rossetto o una matita per sopracciglia non mi ricordo comunque questa volta ho voluto prendere il fondotinta questo qui ed io ho preso il colore warm vanilla vediamo se c'è scritto ancora il numero no il numero non c'è scritto va per per colori quindi questo qui è il warm vaniglia e ho preso il fondotinta vediamo come mi trovo poi ho preso una matita per sopracciglia questa qui colore brown cosa molto interessante che appunto da una parte ha lo scovolino per poter pettinare le ciglia e qui invece praticamente ha il temperino il tempera matite integrato quello molto piccolo e quindi il set è composto in questo modo risulta veramente molto utile avere anche il temperino diciamo adattato alla alla matita e poi ho preso questo che è sempre per quanto riguarda le sopracciglia una palette per definire e colorare le sopracciglia quindi vi chiudo lo specchio e questi sono appunto i colori con i due pennellini guardate il pack quanto è carino col dorato ci sono veramente carini le queste linee chiclam sono molto curati nei pack quindi questo è tutto il mio bottino dice in adesso devono arrivare altri due pacchi e lì ci saranno altre puccio serie e altre cose stifiziose quindi arriverà anche il prossimo video io vi ringrazio fatemi sapere qual è il vostro preferito sicuramente questo scherzi a parte ci vediamo prossimo video ciao